Benvenuti alla sincopa, va bene? Oh, questo mi fate una volta i secondi violini? Do, re, mi, fa, sol, la, un, due Lo fate ancora? Uno, due Se fosse un'eccisione non sarebbe giusto ancora Uno, due, tre Meglio, eh? Adesso con questo non più forte di così, eh? Perché dovrebbe essere pianissimo Con più carattere E' una battaglia, eh? Uno, due, tre Ancora Uno, due E' quello che dice, do, re, mi, fa Do, re, mi, fa Tire, 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 tire Do, re, mi, fa, sol, la, ta, 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 ta Un, due Bene Questo dal do, re, mi, fa, sol, la, tire, 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 tire Due, sette, otto Tutti? La corda? Bene Gio Adesso lunga il basso Stop Sì, non è Vedo qualcuno fare Con la cosa dell'occhio Adesso nervoso Mi fate questa cosa Trombe, tromboni La vostra prima ingresso Un, due, tre Più piano Un, due No, la trombo un po' di più Un po' meno il primo e il secondo trombone Uno, due, tre Troppo Uno, due, tre Meglio per lei Tutti insieme Uno, due, tre Sì, il trombone è un po' più lungo Come fa la tromba Tom, pom, pom, pom Uno, due, tre Eh, ancora Uno, due, tre Mi fate i legni? Con le due battute dopo Flauto, obbio e clarinetto Uno, due, tre Adesso pianissimo però Uno, due, tre Ecco Abituatevi ragazzi In queste prove così Ad esercitarvi Pianissimo E quindi Dove essere espressivo Lungo ma ritmico E voi attenzione Molto delicato Perché stando lontani Dovete entrare esattamente Io generalmente lo faccio in due qui Però per adesso vi aiuto In quattro Poi dopo vediamo se è necessario Passare in due o in quattro Allora, nello stesso punto Dorre Vi fate Stesso punto Yom Non mollare Non dipendete da me Tardi Non dipendete da me